La nascita dello sport a Cava dei Tirreni è il titolo del nuovo calendario benefico per il 2019 curato da Gaetano Guida del Centro Studi Ricerche Storiche dell'Ente Sbandieratori Cavenzi, città di Cava dei Tirreni con un'introduzione del professor Pino Foscari del Dipartimento di Scienze Politiche, Sociali e della Comunicazione dell'Università degli Studi di Salerno. Il tema è quello della nascita della pratica sportiva in città, vista anche la ricorrenza dei 100 anni dalla Fondazione dell'Unione Sportiva Cavese. Si comincia intorno alle 18. I proventi dell'iniziativa saranno devoluti in beneficenza per l'associazione di volontariato Mani Amiche.